Che cos'è l'Epilepsy Action Plan dell'OMS? Il piano d'azione sull'epilessia è preparato dalle grandi organizzazioni internazionali che è l'IBE, l'International Bureau for Epilepsy, che raccoglie tutte le organizzazioni laiche e l'ILAE, che raccoglie l'organizzazione dei medici, assieme all'OMS hanno preparato questo piano che serve per assicurare diagnosi e cure degne per le persone con l'epilessia e i loro familiari. Quest'anno ha assicurato la sua presenza all'OMS anche il rappresentante del Ministero della Salute italiano. Ci sono personaggi famosi che soffrono di epilessia? No, che io sappia non ci sono personaggi famosi proprio perché su questa malattia esiste stigma e pregiudizi. Sono personaggi storici e famosi, ma a me interessa poco. A me interessa particolarmente ricordare che tutti i giorni ci sono persone che si alzano alla mattina, prendono il treno, prendono la metropolitana, il tram, il bus per recarsi al lavoro. Ci sono donne che decidono di intraprendere la strada per una gravidanza e si affidano a medici per la loro gravidanza. a me sono persone famose da ritenere brave e famose, sono ragazzi che completano il ciclo di studi con la maturità e si avviano verso l'università, questi sono da considerare famosi.